Oioho, ciao a tutti ragazzi, io sono Vergence di Gaming Tonight e benvenuti in questo nuovo video. Dato che sono una persona molto triste e molto abitudinaria, mettiamola così, dal momento che sto testando comunque Altergeist perché non l'ho mai usato veramente, prima d'ora, ho fatto un local oggi. Dato che comunque il mazzo che vincerà il sondaggio verrà utilizzato in un prossimo torneo, oggi ho utilizzato Altergeist e ero in dubbio se portare o meno il local report. Dico vabbè dai, visto quello che è successo nel torneo, però porto magari un po' divertente, mettiamola così, nonostante sia di nuovo un local report di Altergeist, però non fa niente. Comunque ciao a tutti ragazzi, io sono Vergence di Gaming Tonight, smile, benvenuti in questo nuovo video. Allora, local report di Altergeist, eravamo in 10 con Beppe che si è rotto il cazzo di Dragon Turbo. Chi l'avrebbe mai detto? Eravamo in 10, quindi comunque un local da 4 turni alla fine. Primo turno, vado, contro Dino, perdo il dado e lui letteralmente si prende un droll e passa. Avevo tutta... ho un droll una... no, un droll, mi perdo un droll, sì. Letteralmente avevo una mano dove... mezza brick. Era un droll. Non me lo ricordo. Vabbè, comunque gli ho tirato un'introduzione a passato con un mosso sul terreno che non mi ricordo quale fosse, in tutta onestà. Io lo ribalto tranquillamente, vado a vincere. Seconda partita, parte lui, mi sto sauro in mano, combo. Io ci provo in qualche modo, ma ero partito con una mano abbastanza storta. Terza partita, combattuta relativamente. Mi setta un paio di volte Marionetta, Melusik, però poco da fare. Avevo comunque le trappole di... non è che può fare molto contro le settate, a meno che non vede la side completamente. E quindi vado a vincere tranquillamente. Due a uno, senza troppi problemi. Secondo turno, vado contro un ragazzo che gioca a Synchron. E... vinco il dado, vado primo. Vedo quattro trappole, più Ash. E le quattro trappole... Tra le quattro trappole c'era Order. Poi gli altri tre erano tipo un colpo solenne, due impermanence, non roba del genere. Lui parte, attiva Foolish, li giro Order, fa passo. Aveva praticamente tutte le magie in mano. E comincia un momento molto interessante della mia vita, ovvero quando ritorna la voglia di volersi ammazzare. Ecco, perché pesco prosperity. Dico, va bene, ok, sti cazzi, proviamo a campare. Passo, lui ne fa niente, passa, ok. Io pesco, prosperity. Qua mi sta incominciando a puzzare la cosa. Scusate, non prosperity, extravagance. Qua mi sta incominciando leggerissimamente a puzzare la cosa. Sapete, no? Vedete l'extravagance dopo aver attivato Order. E in frattempo sto prendendo danni. Ok, va bene. Passo, lui non fa un cazzo. Passa, io continuo a prendere danno, pesco, extravagance. Dico, e che cazzo, non è possibile sta cosa. Vabbè, continuo. Passo, lui passa. Io continuo a prendere danno. Vedo multifaker, normal multifaker. E incomincio a picchiare, però. Arrivo a 7700 di danno. E io non potevo più fare nulla, letteralmente. Il solenne che avevo settato non potevo attivarlo. Tra l'altro ne avevo pescato un altro di colpo solenne. Quindi, niente. Non avevo pescato giudizio, eh. Judgment, no. E niente, finisce in questa maniera molto simpatica. Seconda partita vinco tranquillamente, senza problemi. Vado in controllo della partita. Lui ci prova, però non l'ha da fare. Terza partita. Ash, droll, impermanence. TT. E un'altra carta che non ricordo. Io guardo la mano. Setto, passo. Gli gioco tutte le interruzioni. Va bene, ok. Le interruzioni che dovevo giocargli. Pesco. Ash. Beh, lui prova a giocare. Si prende Ash. Passa. Pesco. Droll. Va bene. Passo. Ok, lui prova a giocare. Si prende le interruzioni. Passa. Pesco. Ash. Perdo 2 a 1 da Synchron. La mia voglia di vivere ha toccato il nucleo della terra. Magari fossi io la mia voglia di vivere in questo momento. Terzo turno. Vado contro Prenkitz. Perdo il dado, mi pare. Sì, perdo il dado e vabbè. Mi fa turbo il del mostro Link 4 che spacca le settate. Farò tempesta potente. C'era sporperino. Rapido. Che devo fa' contro quella roba? Che devo fa' perdo? Perché anche faccio normal Melu e me la toglie dal terreno con non mi ricordo cosa, però me la toglie dal terreno. Seconda partita. Vinco io. Vado in controllo della partita. Lui fa veramente poco. Quindi, cioè, incomincio a luppargli le normal, a fare protocollo sugli effetti e dire yeah. Terza partita. Va lui. Riesce a giocare. Io riesco comunque, tutto sommato, a fargli del danno. Non arrivo in una situazione nella quale lui sta a 3500, io sto a 6500. Fa la combo, mancavano 50 secondi. Prova ad entrare in battle. Niente, avevo Cunqueri in mano e 7 Equitario sul terreno, quindi di conseguenza potevo rimbalzargli uno, rimbalzandomi il Cunqueri che era stato evocato, quindi sostanzialmente negarli due attacchi. 7 Equitario e rimbalzavo un mostro, quindi vado a vincere abbastanza... Per il rotto della cuffia, per non dire a botta di culo così, e niente. Sia Benedetto Cunqueri. Ultimo turno, vado contro Stan Cremaggio, però. Prima partita perdo, male, perché vede Border di prima mano e dice io che forte Border, io ero lì che provava a fare normal di Melu, lui me la rimbalzava in mano, me la mandava al cimitero, quindi di conseguenza bannata, mi ci prendeva il controllo e quindi i link col cazzo che entravano, a un certo punto di cui vai a cagare, te la do vinta. Seconda partita, si do 12 carte, dal momento nel quale si è dato 12 carte lui ha smesso di vivere, perché vado io, settate, passo, non gioca, mette Gremaggio a un certo punto sul terreno, io dico sì, attacca, attacca. Rivelo Cunqueri. Effetto. Ciao, è stato bello. E quindi Gremaggio saluta il terreno così. Sì, ultima partita, vabbè, ultima partita mi vede Border più qualche set, io gli faccio Dark Ruler No More su Border, lui mi gira, there can be only one, ma dico vabbè, me la prendo con calma, scialla, gioco tranquillamente sotto there can be, la tolgo addirittura al quarto o quinto turno, se non ricordo male, e quindi niente da dire, quel cancro di mazzo di merda di stun finalmente, che porca troia, mamma mia, vabbè, è solo antipatico giocarci contro, fa cagare come mazzo, vabbè, comunque finisce che faccio tre vittorie e una sconfitta, peccato perché potevo fare 4-0, perché se non avessi briccato come un maiale porco alla prima partita contro Synchron, avrei potuto fare potenzialmente 4-0, invece quella dannata partita dove ho visto order più 3 extra vagans una dopo l'altra, porca troia, malonna, diciamo che non è stata molto simpatica, ecco, mettiamola così, vabbè, finisco terzo, sì, terzo con 3-1, eravamo in 4 ad aver fatto 3-1, dato che Beppe ha lasciato il torneo quando, al secondo turno, alla fine del secondo turno, sì, ha abbandonato il torneo, ha droppato proprio perché voleva tornare a casa, voleva, la prima cosa che ha fatto è stata tornare a casa, fare la foto a GK Dragon Turbo e metterlo in magnità. Tornerò a giocare Akai, se volete una deck profile di Akai, di Beppe, su GT, ditemelo. Detto questo ragazzi, spero che questo vi sia piaciuto, proverò nei prossimi periodi a fare dei local report diversi, soprattutto dopo le LCS. Noi ci vediamo come al solito domani nei 15 con un nuovo video, devo testare il nuovo Adamantia, mi sa che vi porterò una deck list Adamantia che sto testando in questo periodo, ovvero quella di Adamantia Fossile. Mi sa, mi sa che al prossimo local porto quello perché voglio testarlo, secondo me potrebbe essere una buona scelta per il Ulus per andare a fare 0-6. E niente, ciao ragazzi! Grazie a tutti!